Elisa Salerno ha dedicato il suo impegno a tantissimi di temi, argomenti e questioni che sono in parte ancora aperte oggi e tutte ruotano intorno a quella che lei chiamava la causa santa della donna. Negli anni molti studiosi e studiose hanno ripreso e approfondito il suo lavoro, aiutandoci così a riscoprirne la portata e l'attualità. In questo volume abbiamo cercato di ricostruire il mondo di Elisa Salerno, un mondo fatto di impegno intellettuale e di pensiero, essendo lei teologa e biblista, ma anche di azioni pratiche, di attività concrete, nel suo modo di essere anche giornalista. Tutto questo suo lavoro ha sempre avuto come punto di riferimento il sostegno, l'aiuto alle donne e soprattutto favorire l'affermazione dei loro diritti. Abbiamo raccolto una corposa selezione di saggi in cui i temi della pensatrice Vicentina sono riletti da persone competenti nelle varie discipline. Per offrire un corpus di studi qualificato e di base per chiunque desideri approfondire il pensiero di questa grande donna, insomma l'essenziale su Elisa Salerno raccolto in un un unico volume. Un libro per dipanare la matassa del mondo complesso e sfaccettato, spesso visionario e anticipatore, di Elisa Salerno.